Ecco che inizia la Messa di Padre Pio. Prendiamo in mano il nostro libro La Messa di Padre Pio, lo trovate anche sul nostro sito www.fedecultura.com, libricino piccolo, sottile, di 50 pagine. Leggetelo, fatelo leggere ai sacerdoti, fate di nuovo infiammare il loro cuore d'amore per Cristo e fate di nuovo sì che la vostra vita e anche la loro vita torni ad avere come centro la Santa e l'Eucaristia, cioè il dono di Cristo a noi per la nostra salvezza, la nostra gioia, la nostra redenzione e santificazione. La Messa comincia evidentemente con il segno di croce e sono parole che Padre Pio pronuncia sempre con un grosso nodo alla gola. Per contrastare e reprimere un pianto che non riesce del tutto a raffrenare. Impressionante! Padre Pio va piangendo alla Santa Messa. Il suo mea culpa poi era accompagnato da sordi e scanditi pugni sul petto per confessare davanti alla comunità dei fratelli di essere il più grande peccatore del mondo e non era uno che stava fingendo. Aveva la chiara percezione del proprio nulla, come l'hanno tutti santi. domanda Nel divino sacrificio, Padre, voi prendete su di voi le nostre iniquità? Risposta Non si può fare diversamente, poiché fa parte del divino sacrificio. Il Signore allora vi considera peccatore? Risposta Non lo so, ma temo che lo sia. Salito sull'altare, il Padre, dopo aver appoggiato le mani giunte alla mensa, curvandosi, vi si ferma a lungo. Vi ho visto tremare mentre salivate i gradini dell'altare. Perché? Per quello che dovevate soffrire? Risposta Non per quello che dovevo soffrire, ma per quello che dovevo offrire. Quello che Padre Pio offre nella celebrazione della messa è insito in quello che soffre. Non vi è cosa che il Padre non soffre, perché tutto intiero si offre. Padre e Padre Pio, in quali ore del giorno, Padre, soffrite assai? Risposta Durante la celebrazione della Santa Messa, il momento della più grande sofferenza, il momento della più grande intimità con Dio, perché è fatto tutt'uno con Gesù Cristo. E questo lo posso fare io, lo puoi fare anche tu. Anche durante il giorno, Padre, soffrite quel che Gesù vi fa soffrire durante la Santa Messa? Starei fresco? E come potrei lavorare? Come potrei esercitare il mio ministero? La bontà del Signore è stata infinitamente provvida, svelandoci la sofferentissima offerta dello stigmatizzato del Gargano all'altare. In quale momento del divino sacrificio soffrite di più? Sempre e in modo crescente. Nella celebrazione della Santa Messa, qual è il momento in cui soffrite di più? Dalla consacrazione alla comunione. Con la fiducia propria delle anime semplici, viene fatta al Padre una significativa domanda. La risposta che viene data farà brividire, sconvolge addirittura. In quale momento della Messa soffrite la flagellazione? Dal principio alla fine, ma più intensamente dopo la consacrazione. Durante la Messa le punture della corona di spine e le ferite della flagellazione sono reali? Cosa intende dire con questo? Gli effetti è certo che sono gli stessi. In questo modo, questo mite mansueto agnello di Gesù si dispone a offrire al Padre Celeste, unitamente al martire del Golgotha, la sua vita e l'espiazione dei peccati, consegnando la sua vita alla morte. Il servo di Dio, mediante il sacrificio, si fa intercessore per i peccatori. Ed è questo quello che anch'io devo fare. Vedete, questo non è solo il mestiere del prete. Lui è il ministro, ma deve portare sull'altare del cielo l'offerta e la sofferenza di tutti noi che partecipiamo a quella Santa Messa. Stamani alla Messa, leggendo la storia di Esaù, che vendette la primogenitura, i vostri occhi si riempirono di lacrime. Risposta di Padre Pio. E ti par poco non tener conto dei doni di Dio? Perché, leggendo il Vangelo, avete pianto quando siete arrivati alle parole «Chi mangia le mie carni e beve il mio sangue?» «Piangi con me, di tenerezza!» Perché piangete quasi sempre, Padre, quando leggete il Vangelo nella Santa Messa? «Che ti par poco che un Dio conversi con le sue creature e che sia da loro contraddetto e che sia continuamente ferito dalla loro ingratitudine e incredulità?» E come non piangere davanti a tutto questo? Qui ci sono delle bellissime foto, particolarmente intense, di Padre Pio che alza il calice e che guarda il crocifisso. Continuano le domande «Nella storia del segno sacramentale lo stigmatizzato del Gargano è l'unico ministro tuttora nella plurimillenaria vita sacramentale della Chiesa che nel mistero dell'altare esprime anche della sua carne efficacemente per quanto gli è possibile il crocifisso del Golgotha. «La vostra messa, Padre, è un sacrificio cruento?» «Eretica!» dice questa donna che lo sta intervistando. «No, non voglio dire che quello di Gesù è incruento, ma la vostra partecipazione a tutta la passione è cruenta? Mi sbaglio?» «Beh, questa volta non ti sbagli. Personalmente preso, forse hai ragione». «Eh sì, la partecipazione di Padre Pio è cruenta, suda sangue, perde sangue, vive quello che sta subendo Cristo. Chi terge il vostro volto della messa?» «Nessuno». L'offertorio era un secondo momento che immobilizzava a lungo Padre Pio. Era un tratto saliente della sua messa, inchiodato da una forza misteriosa, con gli occhi in lacrime, sempre amorevolmente fissi al crocifisso dell'altare. Oggi che ci sono questi altari a tavola calda, o l'asse da stiro, tavola calda come lo diceva Guareschi, che non c'è più. Il prete invece che guardare Gesù guarda la gente, guarda, si distrae, e la gente si distrae invece che guardando Gesù guardando il prete. Ma non ci si guarda fra di noi, si guarda Gesù, siamo lì per Gesù, mica per stare insieme. Gesù è il centro, Gesù è tutto, il resto è niente. Siamo un popolo in cammino verso Cristo. Allora, per fortuna, Papa Benedetto, visto che adesso hanno messo gli altari girati, gli altari cattivi, diciamo così, ha fatto mettere una croce sull'altare, in modo che il prete, invece di guardare la gente, guardi alla croce. In modo che quando si innalza il sangue di Cristo, il corpo di Cristo, la gente guarda l'uno e l'altro, il Cristo crocifisso nella croce, che realmente è lì presente il corpo, sangue, anima e divinità nella Santa Eucaristia. Stupendo! Perché piangete all'offertorio? Vorresti strapparmi il segreto? E sia pure. Allora è il momento che l'anima viene separata dal profano. Il Signore separava talmente il suo servo da renderlo insensibile a tutto quello che di profano gli accadeva intorno. Durante la vostra messa, padre, la folla fa un po' di chiasso. E se vi foste trovate sul Calvario, dove si sentivano urli, bestemmi, rumori, minacce, lì era tutto fracasso. I rumori che si fanno in chiesa vi distraggono? Niente affatto. A separazione, però, non era per padre Pio un rigido distacco da quanti erano attorno a lui, ma partecipazione alla celebrazione della sua messa. Era tutto uno con Cristo. Come Cristo era in mezzo al chiasso, alle bestemme, agli urli, agli insulti, alle cose brutte. Così, se tu sei veramente con Cristo, intorno a te ci può essere quello che ti pare. Non ha nessuna importanza. Tu sei uno con Cristo. Tu cammini e soffri con Cristo. Padre, tutte le anime che assistono alla vostra santa messa sono presenti al vostro spirito? Li vedo tutti, figlioli miei all'altare, come in uno specchio. Perché soffrite tanto, padre? Nella consacrazione. Sei troppo cattiva. In tre parole, padre Pio, in un primo tempo, elude la risposta. Era prevedibile un ritorno all'attacco. Torna, Cleonice Morcaldi, a far la domanda. ditevelo perché soffrite tanto nella consacrazione. Perché è proprio lì che avviene una nuova e ammirabile distruzione e creazione. Si ripete il Calvario, in forma incruenta, ma si ripete pienamente, con tutti gli effetti e con tutti i benefici spirituali. Una frase corta e concisa, padre Pio, quella di padre Pio questa volta, dice qualcosa di più. Il singolarissimo miracolo della conversione eucaristica è affermato con assoluta chiarezza. Nulla però viene detto di quanto egli soffre all'altare nel momento della transustanziazione. Il padre nella nuova e ammirabile distruzione e creazione fa disperdere, occultandola, la sua intima e segreta partecipazione. Perché soffrite tanto nella consacrazione? Risposta di padre Pio. I segreti del sommo re non si svelano senza profanarli. Mi domandi perché soffro? Non lacrimucce, ma torrenti di lacrime dovrei versare. Non rifletti al tremendo mistero, un Dio vittima dei nostri peccati. Noi poi siamo i suoi macellai. Eh, sì, io sono il macellaio di Cristo, come con i miei peccati, con i miei peccati. L'amarezza del fiele padre la soffrite? Sì, spesso, spesso. Come vi regge in piedi sull'altare? Come vi reggete? Come si reggeva Gesù sulla croce? Sull'altare siete sospeso sulla croce come Gesù al Calvario? In ordine della crocifissione viene chiesto. I carnefici capovolsero la croce Gesù per ribattere i chiodi? si capisce. Anche a voi ribattono i chiodi? E come? Pure a voi vi capovolgono? Sì, ma non aver paura. Che delicatezza di padre Pio che soffriva questi orrore ma dice non aver paura a questa donna Cleonice che lo intervista. Padre, recitate pure voi durante la Santa Messa le sette parole che Gesù proferì in croce? Sì, indegnamente le recito pure io. E a chi dite donna ecco tuo figlio? Dico a lei ecco i figli del tuo figlio. Soffrite la sete e l'abbandono di Gesù? Sì. In quale momento soffrite la sete e l'abbandono? Dopo la consacrazione. Fino a quale momento soffrite l'abbandono e la sete? Ordinariamente sino alla comunione. Gesù crocefisso aveva le viscere consumate? Di piuttosto bruciate? Di che cosa aveva sete Gesù crocefisso? Del regno di Dio. E tu di che cosa hai sete? Io di che cosa ho sete? Di fare i miei comodi? Mi avete detto che vi vergognate di dire cercai in vano chi mi consolasse. Perché? Perché di fronte a quello che soffrì Gesù il nostro soffrire come veri colpevoli impallidisce? Di fronte a chi mi vergognate? Di fronte a Dio e la mia coscienza? Gli angeli del Signore non vi confortano sull'altare ora che vi vede immolato? Ma io non li sento. Nemmeno Gesù sull'altare è stato confortato. Sulla croce è stato confortato. nel Gezzemani sì ma poi basta. Il Padre diciamo così si è allontanato da Lui lo ha lasciato solo a vivere sino in fondo sino alla feccia a bere questo calice amaro della passione. Se il conforto non scende nel vostro spirito durante il divino sacrificio e voi come Gesù soffrite il totale abbandono è inutile la nostra presenza. L'utilità è dalla parte vostra. Dovremmo allora dire inutile la presenza dell'addolorata di Giovanni delle piedonne ai piedi del morente. Eh no altro che inutile. Padre perché no non cedete anche a noi un po' di questa vostra passione? i monili dello sposo non si regalano a nessuno. Ditemi cosa potrei fare per alleggerire il vostro calvario? Alleggerirlo? Di piuttosto per appesantirlo? Bisogna soffrire. Eh e ci sono i soliti sciocchi che parlano di masochismo tutt'altro. Amore è solo amore. Desiderare di più soffrire per essere più simili a Cristo e più anime salvare. è doloroso assistere al vostro martirio senza potervi aiutare. Anche la dolorata dovete assistere. Per Gesù certo era più confortante avere una madre dolorante che una indifferente. Quanta indifferenza vediamo purtroppo in chiesa durante la consacrazione. Come niente fosse successo. E invece lì si sta ripresentando la passione morte e risurrezione di Cristo. Che faceva la Vergine ai piedi di Cristo crocefisso? Soffriva nel vedere soffrire suo figlio. Offriva le sue pene e i dolori di Gesù al Padre Celeste per la nostra salvezza. Pure la comunione soffrite è il punto culminan. Dopo la comunione continuano le vostre sofferenze. sì ma sofferenze amorose in questa unione Gesù non vi consola sì ma non cessa di stare sulla croce. Vedete la consolazione noi cerchiamo sempre una consolazione che sia più simile al peccato cioè darse piacere invece la vera consolazione cos'è? Aumentare l'amore e più si aumenta l'amore più si aumenta la sofferenza. Non c'è chi soffra più di Dio stesso davanti ai nostri peccati ai nostri rifiuti alla nostra pervicacia. Nella Santa Messa morite anche voi misticamente sì nella Santa Comunione è per veemenza d'amore o di dolore che subite la morte per l'uno e per l'altro ma più per amore. Nella Comunione subite la morte allora non ci siete più sull'altare? perché anche Gesù morto era sul Calvario avete detto padre che nella comunità della Comunione la vittima muore e le braccia della Madonna vi depongono? Di San Francesco risponde padre Pio la pietà di un cuore lusingando si aveva pensato che il dolce Signore finalmente aveva trovato un'anima tra gli uomini dove poteva a suo agio riposarsi. non era dello stesso avviso l'umilissimo figlio del poverello Gesù padre Gesù padre tacca dalla croce le sue braccia per riposarsi in voi sono io che mi riposo in lui quanto amate Gesù il desiderio è infinito ma in pratica ahimè sarei per dire è zero e me ne vergogno vi ricordate cosa ha detto Papa Benedetto le ultime parole prima di morire Gesù ti amo parole bellissime impariamo anche noi a dire Gesù ti amo prima di andare a messa durante la messa quando riceviamo Cristo nella comunione desiderate celebrare più di una messa al giorno se fosse il mio potere non scenderei mai dall'altare ed è quello che vive Cristo che è sempre in croce per noi per la nostra salvezza anche ora che certamente è morto è risorto è asceso al cielo però è ancora 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 misticamente in croce per la nostra redenzione ultima parte il Signore Padre ama il sacrificio sì perché con questo ha rigenerato il mondo quanta gloria dà a Dio la Santa Messa infinita gloria che dobbiamo fare durante la Santa Messa compassionare e amare compassionare vuol dire vivere insieme a Gesù la sua passione quindi soffrire con lui e amare Padre come dobbiamo ascoltare la Santa Messa come vi assistete la Santissima Vergine le piedonne come assistete San Giovanni al sacrificio eucaristico e a quello cruento della croce che benefici riceviamo ascoltando la Santa Messa non si possono enumerare li vedrete in paradiso li vedremo in paradiso è certo nel cielo nuovo della terra nuova che Giovanni annuncia alla fine dei tempi nuova pure la città santa Gerusalemme che scende dal cielo messa in ordine come sposa abbigliata per il suo sposo è il nuovo tabernacolo di Dio fra gli uomini Dio abiterà in mezzo al suo popolo la nuova Gerusalemme non ha bisogno del sole della luna perché la gloria di Dio la illumina gli eletti che cammineranno in quella luce vi si aggireranno con il nome dell'agnello scolpito sulla fronte hai tu in fronte segnato il nome dell'agnello di Cristo sei tu totalmente cristificato il tuo pensiero il tuo cuore il tuo amore le tue intenzioni sono tutte rivolte al nostro Signore Gesù Cristo per cui la messa diventa davvero il centro della tua vita in paradiso padre vi contempleremo crocifisso per vostra maggior gloria il serafino di Petrelcida in cielo dai suoi figli in Gesù sarà contemplato pure crocifisso eternamente la gloria del padre ecco questo si conclude vi ho letto solamente dei passi degli elementi di questo bellissimo libro la messa di padre Pio di padre Tarcigio da Cervinara che riporta le domande così anche direi quasi indiscrete che fece Leonice Morcaldi a padre Pio una visione di quello che era la santa messa come la viveva padre Pio che ci edifica e ci aiuta anche noi a cercare di seguirlo in questo cammino che seguiva passo dopo passo il cammino doloroso di Cristo sulla via del Calvario per salvare il mondo per salvare la Chiesa per essere in paradiso di Cristo di Cristo Grazie a tutti.